Sicuramente in questi anni il rapporto fra gallerista, artista, curatore ha subito dei cambiamenti, soprattutto per quello che ho a memoria, l'introduzione della figura del curatore. Il curatore, perché la relazione fra artista e gallerista credo abbia appunto così una radice consolidata, che poi va bene, il tempo sicuramente ha subito trasformazioni, ma nel mio immaginario la figura del curatore è una figura relativamente nuova nell'ambito artistico e spesso è divisa la mia visione. Da un lato immagino la figura del curatore idealmente come un personaggio che conoscendo magari il lavoro parallelo di più artisti decide di partire in un progetto espositivo e come un regista ha in mente che faccia usare per muovere la scena che vuole mettere appunto in scena, e allora in quel caso è interessante la sua operazione, quella di dire cazzo ho un tema in testa e mi piacerebbe vedere questo artista, quest'altro artista e quell'altro muoversi insieme sullo stesso tema per vedere cosa può succedere. E questa è la parte positiva. La parte negativa è che a quanto sento ultimamente, cioè sembra che appunto questa figura del curatore debba essere una figura comunque presente per dare in un qualche modo un valore aggiunto a un'operazione espositiva. Ecco, io adesso rimango nel termine specifico del presentare il lavoro di un artista, cioè quindi avere uno spazio dove allestire una mostra e presentare il proprio lavoro e credo, o perlomeno per me funziona così, non avrei bisogno di nessun curatore per organizzare e realizzare una mia esposizione, perché sono io il curatore di me stesso in questi termini, quindi non vedo l'esigenza, non sento l'esigenza di una figura di riferimento di questo tipo.